Con il tecnico del Brescia Enrico Mazzola commentiamo questa sconfitta qui a Soverato 3 a 1 in gara 1 dei quarti di finale playoff una Brescia che comunque ha giocato una buona palla a volo, ha dato del filo da torcere a questo Soverato e probabilmente resta il rammarico per quel terzo set sul quale eravate a un certo punto 13-20 L'ha vinta il cambio che hanno fatto loro, di questa ragazza nuova che praticamente ha giocato 3 punti fino a qua Ci ha messo in difficoltà, non la conoscevamo, ha fatto dei colpi che non sapevamo e nel quarto set dopo si è visto che l'abbiamo fermata e difesa di più Perciò l'ha vinta quel cambio lì secondo me In più vorrei dire anche qualche errore arbitrale che non mi aspettavo Qualche arbitrale nel quarto che si è frenato nel recupero Per il resto io sono veramente contento di come si è espressa la mia squadra Non pensavo che potessimo arrivare ancora a questo punto della stagione Dopo una stagione per noi lunghissima, ricordiamoci che eravamo la neopromossa Io ho organizzato una preparazione per cui la squadra potesse partire subito al massimo Sino dalle prime giornate per cercare di portare a casa subito i punti che ci permettevano di pensare a una salvezza facile Così non è stato perché dopo un po' a metà campionato abbiamo avuto dei problemi fisici Abbiamo conquistato la salvezza a qualche giornata d'anticipo Adesso ci stiamo giocando i quarti di finale e vi assicuro che non è ancora finita Un Brescia che nonostante abbia perso malamente quel terzo set dove era nettamente in vantaggio Nel quarto però non si è abbattuto, ha lottato, ha giocato punto a punto Quindi ha dimostrato anche carattere Questo sicuramente è un buon viatico in vista della gara di ritorno che si disputerà fra tre giorni a Brescia E' per questo che sono orgoglioso di queste ragazze qua C'è un quarto set che per vari motivi, il terzo set che per vari motivi l'abbiamo perso Come ho detto prima quel cambio lì c'è un po' fregato, più molti errori nostri Però abbiamo avuto una reazione importante nel quarto che mi fa ben ispirare per la gara di ritorno Coach Saia, iniziano con una vittoria i playoff del Bolle Soverato Una partita sofferta come era da attendersi perché nei playoff sappiamo tutte le partite sono difficili Ma un soverato che ha dimostrato un gran carattere, ha attraversato dei momenti difficili durante il match Però non si è mai abbattuto Sì è stata come da previsione una partita molto combattuta e molto nervosa Una partita che è andata a strappi Chi arriva ai playoff ovviamente li gioca per vincere, per dare tutto quello che ha rimasto come energie nervose E come energie fisiche sul campo E oggi abbiamo assistito ad una partita magari non bellissima dal punto di vista tecnico Ma molto combattuta, molto sofferta dal punto di vista mentale e della tensione Ripeto, è una partita che è andata a strappi, un po' dalla parte nostra, un po' dalla parte loro Noi ci siamo irrigiditi in alcune situazioni permettendo loro di creare un break E che abbiamo fatto fatica a colmare Però poi siamo ritornati lì, abbiamo sfruttato anche chi di solito gioca meno Che ha dato il suo contributo e ci ha dato la possibilità di arrivare in fondo a questa partita E di partire 1-0 Svolta probabilmente della gara sul 13-20 del terzo set Quando avete rimontato, chiuso al fotofinish Poi nel quarto, è vero è stato equilibrato Però avete quasi sempre condotto Sicuramente quel terzo set vinto in quel modo vi ha dato una spinta maggiore Sì, ripeto, è stata una partita molto nervosa Dominata più dalla sensazione, dalla pancia che dalla testa E quindi aver chiuso il setting, rimonta in quel modo ci ha sicuramente dato quella carica Per poter rientrare in campo ed essere più incisivi e più decisi Soprattutto in fondamentale di muro difesa Ilaria De Michelis, una delle principali protagoniste di questa vittoria sofferta Del volle soverato, 3-1 contro il Brescia Nei play-off sappiamo che l'importante è vincere Logicamente oggi ci sono state delle difficoltà Ma c'era da attenderselo contro comunque una squadra ostica Che ha delle individualità importanti Sì, loro sicuramente sono l'anno promossa Che ha fatto molto bene in campionato Diciamo che è passata per ultima i play-off E non avevano anche niente da perdere Quindi voglio dire, è venuta qua a testa alta Permettendosi anche il rischio di rischiare qualcosa in più Quindi hanno iniziato comunque a metterci in difficoltà Ma noi siamo riusciti a stare in partita E questo secondo me è un grande passo per la nostra squadra Avete saputo soffrire nei momenti di difficoltà Indice del fatto che questa squadra cresce anche dal punto di vista del carattere E della mentalità oltre che del gioco Sì, quella mi sembra la cosa fondamentale di questa partita Nel senso che ci sono state altre partite che mollavamo di testa Nonostante fossimo comunque in semi partita Però questa secondo me è stata fondamentale Perché vuol dire che siamo cresciute Vuol dire che abbiamo capito che c'è bisogno di tutte Dalla prima all'ultima E così è stato poi Paradossalmente dopo il primo set vinto 25 a 16 Si è avvertita forse un po' di tensione Anche nella squadra L'importanza sicuramente della partita E tra virgolette l'obbligo di partire bene Perché si giocava in casa per sfruttare il fattore campo Sì, sicuramente c'era da parte di tutti Il desiderio di fare bene Quindi questo un po' di pressione la mette Loro secondo me si sono guardate un po' in faccia Come ho detto prima Hanno iniziato a rischiare qualcosa in più Che il primo set magari erano anche loro un po' tirate E noi abbiamo iniziato a patire un po' Però l'importante è stato comunque rimanere attaccata alla partita Oggi una risposta importante anche da Limareva Che è entrata dalla panchina E vi ha aiutato molto al posto di Costanza Manfredini Indice del fatto che questo gruppo Veramente può fare affidamento su tutti Sì, se comunque siamo qua Secondo me è anche e soprattutto merito della panchina Perché al di là del fatto che chi gioca più chi gioca meno Se siamo arrivate qua e siamo a giocarci questi playoff Da quarta classificate Anche perché gli allenamenti comunque sono di altissimo livello E i giocatori che giocano di meno Riescono comunque a renderci il livello di allenamento molto alto Lena è stata bravissima Un punto di riferimento anche per magari Noi che eravamo in quel momento un po' col fiato corto Però veramente c'è bisogno di tutti Dalla prima all'ultima e da qui alla fine dei playoff